Ben ritrovati a tutti quanti in questo appuntamento periodico su F1 in generale, dove in tutti i giorni di ogni weekend di gara andiamo ad analizzare ciò che succede in pista per trarre tutte quante le conclusioni. Quindi se ancora non sei iscritto ti invito a farlo perché non devi perderti assolutamente nessuno di questi appuntamenti. Andremo ad analizzare, come ogni domenica, tutta quanta la gara, come si sono comportati i piloti, i team e i passi gara delle vetture. Quindi entriamo subito nel succo della questione. Questo weekend di gara abbiamo avuto un nuovo vincitore di una gara di Formula 1, Lando Norris che è il 114esimo pilota al mondo ad aver mai vinto una gara nella classe regina. E in che modo l'ha fatto? L'ha fatto in un modo eccezionale, Verstappen era ancora in pista, quindi si può dire che l'abbia veramente battuto in pista. Ha avuto anche un piccolo aiutino dalla safety car che molto probabilmente senza quella il risultato non sarebbe stato quello che abbiamo visto. Ma lui e McLaren hanno corso una gara magistrale. È stata un po' per tutti una gara bellissima perché era veramente da tantissimi anni che non si vedevano dei distacchi così brevi in termini di passo gara. Ed è per questo che dico che secondo me nell'ultimo periodo questa qua è stata una delle gare più belle e avvincenti, nonostante la pista non fosse stata una delle più belle. Più avanti nel video vi spiego anche il perché di questa mia affermazione. Ma andiamo per gradi. Giro 1, curva 1. Leclerc non parte in uno dei migliori modi possibili. Rischia di farsi passare da Sainz e nel frattempo dietro arriva un Perez che sbaglia completamente la staccata e arriva lunghissimo. Rischia di centrare sì i due Ferrari ma anche il suo caposquadra Max Verstappen. Ci è mancato veramente pochissimo. Quando poi Max a fine gara ha rivisto il video del possibile incidente ha fatto una faccia molto molto incredula perché ha ragione, è stato veramente un rischio. Per fortuna non è successo niente ma in tutto questo nonostante la cattiva partenza di Charles comunque il monegasco riesce a rimettere le ruote davanti Sainz. E per questo comunque Sainz ha perso molto tempo e infatti si è fatto passare anche da piastri. Sin da subito si è visto che non sarebbe stata una gara comune lì davanti, non una gara come tutte quelle che abbiamo visto nel 2024 fino ad adesso. Semplicemente perché i tempi di tutti quanti erano velocissimi e molto molto vicini tra loro. Una cosa che veramente era anni che non mi capitava di vedere che i primi 4-5 fossero tutti quanti così vicini. Nelle retrovie abbiamo visto anche una bellissima battaglia al primo giro tra i due dell'Alpine che hanno percorso praticamente tutta quanta la sezione lenta e stretta affiancati. Per me questo non apprezzo, è una delle cose più belle. Proseguendo nella gara non abbiamo visto un altissimo degrado per la gomma. Questo è stato dovuto al fatto che l'asfalto del circuito di Miami, essendo comunque un parcheggio, un circuito cittadino, è molto liscio e non porta comunque una grande usura sulle coperture. Questo ha permesso dunque a Lando Norris di allungare il suo stint, fermarsi dopo e fermandosi dopo è riuscito a fermarsi sotto regime di safety car. Questo cosa significa? Safety car causata da un contatto tra Magnussen e la Williams di Sargent che finiscono entrambi fuori, Sargent prende il muro e non riesce più a ripartire. Il grande vantaggio che porta a effettuare una sosta sotto safety car è quello che te non vai a perdere tutto quanto il tempo che perdiresti in un pit stop in regime di bandiera verde. Molto semplicemente perché i tuoi avversari in pista devono tenere una velocità molto ridotta in confronto a quella normale e te in pit lane usi la solita velocità che useresti sempre. Grazie a questo e grazie al passo fenomenale che Lando ha tenuto da circa l'ottavo o decimo giro fino a quel punto sono riusciti a stare davanti a Verstappen. Dopo la ripartenza con gomma bianca il passo della McLaren di Norris è stato allucinante perché comunque dietro c'è stata una lotta molto accesa tra tanti altri. Tra questi anche da segnalare Sainz Piastri che si sono scambiati delle belle sportellate. Prima Piastri su Sainz e poi Sainz su Piastri dove Sainz per un contatto avvenuto con l'australiano si è preso una penalità e quindi è scalato indietro di una posizione. Penalità giusta? Secondo me sì perché comunque Sainz è arrivato a staccare molto molto tardi e se Piastri avesse tenuto la solita traiettoria di ogni giro molto probabilmente sarebbero feuniti fuori entrambi. Dietro un altro che ha fatto un'ottima gara nonostante la macchina è stato sicuramente Hamilton che hanno cambiato l'assetto tra quella che è stata la sprint race e la gara effettiva andando a scaricare un pochino la vettura e questo gli ha permesso comunque di avere una vita più facile durante i sorpassi nonostante comunque all'apertura del DRS non godagnasse quasi niente. Però diciamo che tutto sommato Hamilton ha corso veramente una bella gara. Infatti dalla nonna posizione riesce ad arrivare sesto e per pochissimi decimi sarebbe anche potuto arrivare quinto se fosse stato un pochino più vicino a Sainz. Andando a leggere quella che è la classifica partendo dal basso vediamo come Sargente come abbiamo detto prima per un contatto con Magnussen è uscito e quindi non ha tagliato il traguardo. Magnussen stesso ha preso la penalità e si è ritrovato ultimo in diciannovesima posizione Albon diciottesimo Stroll diciassette Aston Martin che non si è mai trovata bene in questa pista qua. Devono capire il perché ma non ha performato assolutamente bene anche se comunque Alonso si è portato in una nonna posizione ma è Fernando Alonso cosa ce lo stiamo a domandare a fare. Sedicesimo Bottas quindicesimo Ricciardo che ha fatto una gara molto sottotono una qualifica è una gara che non mi sarei mai aspettato da lui dopo aver visto i risultati della sprint race e della qualifica sprint. Peccato mi dispiace perché comunque in certe fasi il passo di Daniel non era assolutamente male si è trovato in una posizione non tanto comoda dietro a Bottas e anche lui non è riuscito mai a sorpassarlo fino alla fine della corsa. Joe quattordicesimo tredicesimo Piastri perché come abbiamo detto con il contatto tra Sainz e lui è dovuto rientrare per cambiare l'ala anteriore perché come verso la fine della gara che stava battagliando con Ricciardo dalla squadra gli hanno detto Piastri con calma non vogliamo che ci sia un contatto un incidente e una safety car perché Lando è primo e una safety car potrebbe rovinare tutto quanto. Aske si riconferma tra le più veloci degli altri ma un grandissimo applauso e una cosa che non mi sarei mai aspettato quest'anno devo essere sincero il primo punto dell'Alpine. Ocon si porta a casa il primo punto ottima ottima gara per Ocon è stato veramente veramente bravo anche per merito degli aggiornamenti che ha portato Alpine nel corso delle gare e molto probabilmente questa qua è stata una pista nel quale il team si è trovato molto a suo agio. Alonso come abbiamo detto nono Russell che non ha praticamente mai brillato non abbiamo mai visto guizzi particolari di Russell che si trova ottavo addirittura dietro a Navicarb quindi Sunoda settimo che si conferma il primo degli altri molto molto bene Sunoda sta facendo veramente un grandissimo campionato soprattutto se paragonato al compagno di squadra. Hamilton in sesta posizione Sainz quinto come abbiamo detto per una penalità Perez che si porta in la quarta posizione e sul podio troviamo un Charles Leclerc che si è comportato molto bene durante tutto quanto il corso del weekend. Non è riuscito a concretizzare sul finale su Verstappen però come tutti quanti dicono questa Ferrari non ha portato aggiornamenti mentre tutti quanti hanno già portato diverse cose loro sono gli unici che ancora sono rimasti alla prima versione del Bahrain. Verstappen secondo dopo tantissimo tempo battuto in gara da Singapore dell'anno scorso battuto veramente in gara e non battuto perché si è ritirato e Norris primo. Andiamo a vedere quelli che sono stati i passi gara dei vari team e dei vari piloti in questa gara a Miami. In questo grafico vediamo i tempi sul giro che sono stati fatti da Verstappen in blu e Norris in arancione. Sono stati praticamente quasi sempre a parità di gomma e vediamo come sì in una prima parte di gara Verstappen avesse un passo più veloce di Norris. Si parla di quattro decimi, quattro decimi, un decimo, due decimi Verstappen più veloce di Norris. Dato anche dal fatto che Norris si trovava indietro con del traffico e quindi sicuramente ci sono stati delle fasi in cui è stato un po' rallentato. Però vediamo come dopo il pit stop di Norris al giro 29 che è stato fatto appunto sotto safety car dopo Norris ha girato sempre costantemente più veloce di Verstappen. Anche qui il distacco è sempre stato minimo, vediamo 1.31.1 per Norris, 1.31.4 per Verstappen, 1.31.1 per Norris, 1.31.5 per Verstappen. Così fino alla fine della gara si sono dati botte a tempi sul giro di veramente con differenze minime. Quindi per questo dico che Norris nonostante la safety car abbia vinto in un modo super 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 meritato e ha guidato una gara astronomica. È stato fenomenale in questa gara qua, veramente. Tantissimi complimenti a Lando Norris che si merita la sua prima vittoria. Aggiungendo un membro all'equazione vediamo come anche Leclerc con la linea rossa si è comportato molto molto bene. In una prima fase di gara ci sono stati dei momenti in cui ha girato sugli stessi identici tempi di Verstappen. Anche lui poi ha fatto un pit stop anticipato che gli ha portato un po' di sfortuna sotto safety car. Una volta rientrata la safety car anche lui inizialmente ha perso un po' di terreno da Verstappen e poi si sono allineati con i tempi. Non c'è mai stato un momento nel quale Leclerc avrebbe potuto prendere Verstappen ma comunque possiamo dire che ha fatto una grandissima gara anche lui. I tempi sono tutti quanti vicinissimi, vedete come veramente non c'è differenza tra i tempi di tutti quanti. E questa cosa la vediamo ancora molto meglio in quest'altro grafico. Praticamente hanno sempre girato tutti quanti sugli stessi identici tempi. Non ci sono praticamente state differenze tra i primi ed è questo che ha reso la gara esageratamente bella, elettrizzante e divertente. Che veramente non mi ha mai staccato un secondo dallo schermo della televisione. È stata molto molto divertente. Ma tra tutti non solo i primi che comunque hanno avuto sì un passo maggiore ma anche gli altri dietro tra di loro sono stati sempre molto molto vicini. Grazie all'analisi dei passi gara vediamo come in media Ferrari, quindi sia Sainz che Leclerc che le medie dei tempi sul passo gara sono state di 1,32 e 28. Mentre i passi gara medi di Perez e Norris sono stati di 1,32 e 30. Quindi 0,02 secondi di differenza tra i passi gara, tra Ferrari e McLaren. Non è assolutamente niente. Sono stati tutti quanti vicinissimi. Mentre in Red Bull il passo gara medio tra Verstappen e Perez è stato 1,32 e 31. Quindi un centesimo più lenti di McLaren e tre centesimi più lenti di Ferrari. Questo è facile capire quanto una gara possa essere avvincente e bella quando i primi sono così tanto vicini. Qui abbiamo una visione un pochino più generale di quello che sono stati tutti quanti i passi gara compresi le soste e di pit stop. Vediamo come detto prima in una prima fase di gara i passi gara di Verstappen e Leclerc molto molto allineati. Sempre un pelo di vantaggio per Verstappen in questo caso. E poi dopo la linea gialla grande centrale che è stata la safety car, come Norris sia stato super costante, perfetto, preciso e più veloce di tutti quanti. Questo ha portato a una grandissima vittoria, non smetterò mai di ripeterlo. Quindi sono molto contento di come sia andata questa gara. Mi sono divertito veramente tanto, come non succedeva da diverso tempo in una gara di Formula 1. Spero che da qui in avanti durante tutta quanta la stagione si possano ripetere altre gare simili a queste, con vincitori differenti e con tante emozioni poi da raccontare nel post gara come questo. Mi riaggancio e vi invito un'altra volta a seguire F1 in generale qui su YouTube e su tutti quanti gli altri social per rimanere sempre aggiornati sulla Formula 1. Io intanto vi ringrazio per essere stati qua, per averci ascoltato. Per me è stato un piacere e ci rivediamo alla bellissima gara di Imola, dove Ferrari porterà i suoi aggiornamenti e vedremo se la storia cambierà o rimarrà quella che abbiamo visto fino adesso. Vi auguro a tutti quanti una bellissima settimana.